allora full timer moto è qua che tira su eh mi raccomando però il problema che gliel'ha agganzata full timer pesca adesso vediamo se è buono di giocarsela vedete la posizione la posizione delle gambe completamente scazzata il sinistro sta avanti il destro sta dietro dai guarda lì avanti che eri qua da otto ore non hai preso uno sono arrivato io io l'ho agganzata subito 6 Nooo Szetti Szetti Beb 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 Che Madonna!